Sura ventiduesima O uomini, temete il vostro Signore. Il sisma dell'ora sarà cosa terribile. Il giorno in cui la vedrete, ogni nutrice dimenticherà il suo lattante e ogni femmina gravida abortirà. E vedrai ebri gli uomini mentre non lo saranno. Ma sarà questo il tremendo castigo di Allah. C'è gente che polemizza a proposito di Allah senza alcuna scienza, e seguono ogni diavolo ribelle, del quale è scritto che travierà e guiderà verso il castigo della fiamma chi l'avrà preso per patrono. O uomini, se dubitate della Ressurrezione, sappiate che vi crammo da polvere e poi da sperma, e poi da un'aderenza, e quindi da un pezzetto di carne, formata e non formata. Così noi vi spieghiamo e poniamo nell'utero quello che vogliamo fino a un termine stabilito. Vi facciamo uscire lattanti per condurvi poi alla pubertà. Qualcuno di voi muore e altri portiamo fino all'età decrepita, tanto che non sanno più nulla dopo aver saputo. Vedrai alla stessa maniera la terra disseccata che freme e si gonfia quando vi facciamo scendere l'acqua e lascia spuntare ogni splendida specie di piante. Così avviene perché Allah è la verità. È lui che ridà la vita ai morti. Egli è onnipotente. Già allora si avvicina, nessun dubbio in proposito, e Allah resusciterà a quelli che sono nelle tombe. Ci sono uomini che polemizzano a proposito di Allah senza conoscenza, senza direzione, senza una scrittura che li illumini. Gireranno il collo per sviare dal sentiero di Allah. Le attende abominio in questa vita e nel giorno della risurrezione il castigo dell'incendio. Ecco il compenso per ciò che le tue mani hanno commesso. Allah non è mai ingiusto nei confronti dei suoi servi. Fra gli uomini c'è chi adora Allah tentennando. Se gli giunge il bene si acquieta. Se gli giunge una prova fa volta faccia e perde in questa vita e nell'altra. Questa è una perdita evidente. Invocano all'infuori di Allah chi non reca loro né danno né giovamento. Ecco il traviarsi più netto. Invocano ciò che reca loro danno piuttosto che giovamento. Che pessimo patrono, che pessimo compagno. In verità, coloro che credono e operano il bene, Allah li farà entrare nei giardini dove scorrono i ruscelli. In verità, fa quello che vuole. Chi pensa che Allah non darà la vittoria al suo inviato in questa vita e nell'altra, tende un accordo al soffitto fino a soffocarsi. Vedrà così se il suo artificio farà sparire ciò che lo fa andare in collera. Così lo facemmo scendere dal cielo in versetti espliciti. In verità, Allah guida chi vuole. E certamente, nel giorno della Ressurrezione, Allah giudicherà tra coloro che hanno creduto, i giudei, i sabei, i cristiani, i magi e coloro che attribuiscono associati ad Allah. In verità, Allah è testimone di ogni cosa. Non vedi dunque che è davanti ad Allah che si prosternano tutti coloro che sono nei cieli e tutti coloro che sono sulla terra? E il sole e la luna e le stelle e le montagne e gli alberi e gli animali e molti tra gli uomini? Contro molti altri si realizzerà il castigo e chi sarà disprezzato da Allah non sarà onorato da nessuno. Allah fa quello che vuole. Ecco due avversari che polemizzano a proposito del loro Signore. Ai miscredenti saranno tagliate vesti di fuoco e sulle loro teste verrà versata acqua bollente che fonderà le loro viscere e la loro pelle. Subiranno mazze di ferro e ogni volta che vorranno uscirne per la disperazione, vi saranno ricacciati. Gustate il supplizio della fornace. In verità Allah introdurrà nei giardini dove scorrono ruscelli coloro che credono e operano il bene. Colà saranno addornati di bracciali d'oro e di perle e le loro vesti saranno di seta. Saranno guidati alla parola migliore, saranno guidati alla via del degno di lode. Quanto ai miscredenti che distolgono le genti dalla via di Allah e dalla santa moschea che abbiamo istituito per gli uomini e chi vi risiede e chi vi si reca sono uguali e a chiunque insolentemente la profana faremo provare un doloroso castigo. Stabilimmo per Abramo il sito della casa dicendogli non associare a me alcunché, mantieni pura la mia casa per coloro che vi girano attorno, per coloro che si tengono ritti in preghiera, per coloro che si inchinano e si prosternano. Chiama le gente al pellegrinaggio. Verranno a te a piedi e con cammelli slanciati da ogni remota contrada. Per partecipare ai benefici che sono stati loro concessi ed invocare il nome di Allah nei giorni stabiliti sull'animale del greggio che è stato loro attribuito in nutrimento. Mangiatene voi stessi e datene al bisognoso e al povero. Ritornino poi alla cura del corpo, assolvano i voti e girino attorno alla casa antica. Questo è quanto e chi rispetterà gli interdetti sarà buon per lui presso il suo signore. E il bestiame vi è stato reso lecito eccetto a quello che vi è stato menzionato. Fuggite l'abominio degli idoli e astenetevi dalle espressioni mendaci. Siate sinceri nei confronti di Allah e non associategli alcunché. Chi attribuisce consimile ad Allah è come se fosse precipitato dal cielo preda di uccelli o del vento che lo scaglia in un luogo lontano. Questo è quanto vi è stato prescritto e chi rispetta i sacri simboli di Allah sa che ciò scaturisce dal timore del cuore. Di esse godrete fino a un termine stabilito. Quindi il luogo del sacrificio sarà presso la casa antica. Ad ogni comunità assegniamo un rito affinché menzionassero il nome di Allah sul capo di bestiame che egli ha concesso loro. Il vostro Dio è un Dio unico. A lui sottomettetevi. Danne la lieta novella agli umili. Coloro i cui cuori fremono al ricordo di Allah. Coloro che sopportano con costanza quello che li colpisce. E coloro che assolvono l'orazione e sono generosi di ciò di cui li provvedemmo. E le vittime sacrificali imponenti ve le indicammo come elementi rituali. Inciovion bene per voi. Menzionate su di loro il nome di Allah quando le apprestate al sacrificio. Poi, quando giacciono senza vita sul fianco, mangiatene e nutrite chi è discreto nel bisogno e chi chiede l'elemosina. Così ve le assoggettammo affinché siate riconoscenti. Le loro carni e loro sangue non giungono ad Allah. Vi giunge invece il vostro timor di lui. Così ve le assoggettate affinché proclamiate la grandezza di Allah che vi ha guidato. Danne la lieta novella a coloro che operano il bene. In verità Allah difende coloro che credono. Allah non ama il traditore ingrato. A coloro che sono stati aggrediti, è data l'autorizzazione di difendersi, perché certamente sono stati oppressi. E in verità Allah ha la potenza di soccorrerli. A coloro che senza colpa sono stati scacciati dalle loro case solo perché dicevano Allah è il nostro Signore. Se Allah non rispingesse gli uni per mezzo degli altri, sarebbero ora distrutti monasteri e chiese, sinagoge e moschee nei quali il nome di Allah è spesso menzionato. Allah verrà in aiuto di coloro che sostengono la sua religione. In verità Allah è forte e possente. Essi sono coloro che quando diamo loro potere sulla terra, assolvono all'orazione, versano la decima, raccomandano le buone consuetudini e proibiscono ciò che è riprovevole. E se ti considerano un impostore, è bene sappi che prima di loro tacciarono di menzogne i loro profeti, il popolo di Noè, gli Had, i Thamud, il popolo di Abramo, il popolo di Lot e gli abitanti di Madian. Mosè fu trattato da impostore. Ho dato tregua ai miscredenti e poi li ho afferrati. Quale fu la mia riprovazione? Quante città facemmo perire perché furono ingiuste? Ora sono ridotte in rovine. Quanti pozzi deserti e palazzi abbandonati? Non percorrono dunque la terra? Non hanno cuori per capire e orecchi per sentire? Che in verità non sono gli occhi ad essere ciechi, ma sono ciechi i cuori nei loro petti. Ti chiedono di affrettare il castigo. Già mai Allah mancherà la sua promessa. In vero, un solo giorno presso il tuo Signore vale come mille anni di quelli che contate. E a quante città ho concesso un rinvio, anche se erano ingiuste. Quindi le afferrai. A me tutto ritornerà. Di, uomini, io per voi non sono altro che un ammonitore esplicito. Coloro che credono e operano il bene avranno il perdono e premio generoso. Quelli che invece si adoperano contro i nostri segni, quelli sono i compagni della fornace. Non inviamo prima di te nessun messaggero e nessun profeta, senza che Satana si intromettesse nella sua recitazione. Ma Allah abroga quello che Satana suggerisce. Allah conferma i suoi segni. Allah è sapiente, saggio. Allah fa sì che i suggerimenti di Satana siano una tentazione per coloro che hanno una malattia nel cuore, per coloro che hanno i cuori induriti. In verità gli ingiusti sono immersi nella discordia. Coloro che invece hanno ricevuto la scienza sanno che questa è la verità che viene dal tuo Signore. Credono in essa e i loro cuori vi si sottomettono umilmente. In verità Allah dirige sulla retta via coloro che credono. I miscredenti non smetteranno di essere nel dubbio finché non giunga improvvisa l'ora o il castigo di un giorno nefasto. In quel giorno la sovranità apparterrà ad Allah ed egli giudicherà tra di loro. Poi quelli che avranno creduto e ben operato andranno nei giardini delle delizie. E i miscredenti che avranno smentito i segni nostri avranno un castigo avvilente. Quanto a coloro che sono emigrati per la causa di Allah che furono uccisi o morirno, Allah li ricompenserà nel migliore dei modi. In verità Allah è il migliore dei compensatori. Li introdurrà in un luogo di cui saranno soddisfatti. In verità Allah è il sapiente, il magnanimo. Allah certamente proteggerà chi risponda proporzionatamente all'offesa e ancora subisca rappresaglie, poiché in verità Allah è indulgente, perdonatore. E' così, poiché Allah fa entrare la notte nel giorno e il giorno nella notte. Ed in verità Allah è colui che tutto ascolta e osserva. E' così, poiché Allah è la verità, mentre ciò che invocano all'infuori di lui è certamente menzogna. In verità Allah è l'altissimo, il grande. Non hai visto come Allah fa scendere dal cielo un'acqua che rimberdisce la terra? In verità Allah è il sottile, il ben informato. A lui appartiene ciò che è nei cieli e ciò che sta sulla terra. Allah è certamente colui che basta a se stesso. E' il degno di lode. Non hai visto che Allah vi ha assoggettato tutto quello che sta sulla terra e la nave che per ordine suo solca i mari. E' lui che trattiene al cielo dall'abbattersi sulla terra senza il suo permesso. In verità Allah è dolce e misericordioso nei confronti degli uomini. Egli è colui che vi dà la vita e poi vi farà morire e vi ridarà la vita. In vero l'uomo è ingrato. Ad ogni comunità abbiamo indicato un culto da osservare e non polemizzino con te in proposito. Chiamali al tuo Signore che in verità sei sulla retta via. E se polemizzano con te allora di? Allah ben conosce quello che fate. Allah giudicherà tra di voi nel giorno della Ressurrezione a proposito delle vostre divergenze. Non sai che Allah conosce ciò che c'è nei cieli e sulla terra? Tutto ciò era chiuso in un libro. Ciò è facile per Allah. Adorano all'infuori di lui cose su cui egli non ha fatto scendere autorità alcuna, ciò su cui non possiedono nessuna scienza. Ebbene, gli ingiusti non avranno chi li soccorra. E quando vengono recitati loro i nostri chiari versetti, potrai leggere il fastidio sul volto dei miscredenti, e manca poco che si scaglino su quelli che recitano loro i nostri versetti. Di? Vi dovrò annunciare qualcosa di peggiore? Il fuoco promesso e miscredenti? Qual triste divenire! O uomini, vi è proposto una metafora. Ascoltatela. Coloro che invocate all'infuori di Allah non potrebbero creare neppure una mosca, neanche se si unissero tal fine. E se la mosca li depredasse di qualcosa, non avrebbero modo di riprendersela. Quanta debolezza in colui che sollecita e in colui che viene sollecitato. Non considerano Allah nella sua vera realtà. Allah sceglie messaggeri tra gli angeli e tra gli uomini. In verità Allah tutto ascolta e osserva. Egli conosce quello che sta loro innanzi e ciò che è dietro di loro. A lui fanno ritorno tutte le cose. O voi che credete, inchinatevi, prosternatevi e adorate il vostro Signore e operate il bene, sì che possiate prosperare. Lottate per Allah come Egli ha diritto che si lotti. Egli vi ha scelti e non ha posto nulla di gravoso nella religione, quella del vostro padre Abramo che vi ha chiamati musulmani. Già allora e qui ancora sì che il messaggero testimoni nei vostri confronti e voi testimoniate nei confronti delle genti. Assolvete all'orazione e versate la decima. E aggrappatevi ad Allah. Egli è il vostro patrono. Qual miglior patrono? Qual miglior alleato? Sura ventitreesima In vero, prospereranno i credenti, quelli che sono umili nell'orazione, che evitano il vaniloquio, che versano la decima e che si mantengono casti, eccetto che con le loro spose e con schiave che possiedono. E in questo non sono biasimevoli, mentre coloro che desiderano altro, sono i trasgressori, che rispettano ciò che è loro stato affidato, i loro impegni, che sono costanti nell'orazione. Essi sono gli eredi, che erediteranno il giardino dove rimarranno in perpetuo. In verità, creammo l'uomo da un estratto di argilla. Poi ne facemmo una goccia di sperma posta in un sicuro ricettacolo. Poi di questa goccia facemmo un'aderenza e dell'aderenza un embrione. Dall'embrione creammo le ossa e rivestimmo le ossa di carne. E quindi ne facemmo un'altra creatura. Si è benedetto Allah, il migliore dei creatori. E dopo di ciò, certamente morirete. E nel giorno del giudizio, sarete risuscitati. In verità, creammo sopra di voi sette cieli e non siamo incuranti della creazione. E facemmo scendere l'acqua dal cielo in quantità misurata e la mantenemmo sulla terra anche se abbiamo la capacità di farla sparire. E per suo tramite, produciamo per voi palmeti e vigneti in cui trovate i molti frutti che mangiate. Come quest'albero, che sorge dal monte Sinei, che vi offre olio e condimento per i vostri cibi. In vero, anche nel bestiame vi argomento di meditazione. Vi diamo da bere di ciò che è nel loro ventre e ne traete molti vantaggi. E di loro vi cibate. Viaggiate su di essi e sui vascelli. Già inviamo Noè al suo popolo. Disse loro, O popol mio, adorate Allah. Per voi non c'è altro Dio che lui. Non lo temete? Allora, i notabili della sua gente, che erano miscredenti, dissero, Costui non è che un uomo come voi. Vuole solo elevarsi sopra di voi. Se Allah avesse voluto che credessimo, avrebbe fatto scendere degli angeli. Ma di questo non abbiamo mai avuto notizia, neppure dei nostri antenati più lontani. Certo, Costui non è che un uomo posseduto. osservatelo per un po' di tempo. Disse Noè. Signore, aiutami, mi trattano da impostore. Perciò gli ispirammo. Costruisci un'arca sotto i nostri occhi, secondo quello che ti abbiamo ispirato. Poi, quando giungerà il decreto nostro e ribollirà la fornace, allora imbarca una coppia per ogni specie e la tua famiglia, eccetto colui contro il quale è già stata emessa la sentenza. E non mi rivolgere suppliche in favore degli ingiusti. Saranno annegati. Quando poi vi sarete sistemati nell'arca tu e coloro che saranno con te, di, sia lodato Allah che ci ha salvato dagli ingiusti. E di, Signore, dammi a prodo in un luogo benedetto. Tu sei il migliore di coloro che danno a prodo. Questi certamente furono segni. In verità, noi siamo colui che mette alla prova. E dopo di loro suscitiamo un'altra generazione, alla quale inviamo un messaggero dei loro, affinché dicesse, adorate Allah, per voi non c'è altro Dio all'infuori di lui. Non lo temerete dunque? I notabili della sua gente, che erano miscredenti e che negavano l'altra vita, quelli stessi ai quali concedemmo gli agi in questa vita, dissero, Costui non è che un uomo come voi, mangia ciò che voi mangiate e beve ciò che voi bevete. Se obbedirete a un vostro simile, sarete certo tra i perdenti. Davvero vi promette che quando sarete morti, ridotti a polvere e ossa, sarete risuscitati? Lontano, lontano è ciò che vi viene promesso. Non esiste altro che questa nostra vita, viviamo e moriamo e non saremo risuscitati. Non è altro che un uomo che ha inventato menzogne contro Allah e noi non gli presteremo alcuna fede. Disse Hud, Signore aiutami, mi trattano da impostore. Rispose Allah, ben presto se ne pentiranno, e certo. Li colpì il grido in tutta giustizia e li rendemmo come detriti portati dalla corrente. Periscano per sempre gli ingiusti. Dopo di loro, suscitammo altre generazioni. Nessuna comunità anticiperà o ritarderà il termine suo. Inviamo i nostri messaggeri in successione. Ogni volta che un messaggero giunse a una comunità, lo trattarono da impostore. Facemmo sì che si succedessero le une alle altre e ne facemmo argomento di leggende. Periscano per sempre le genti che non credono. Quindi inviamo Mosè e suo fratello Aronne, coi segni nostri ed autorità evidente, a Faraone e i suoi notabili, che si mostrarono orgogliosi. Era gente superba. Dissero, dovremmo credere in due uomini come noi il cui popolo è nostro schiavo? Ritacciarono di menzogna e furono tra coloro che vennero annientati. Già demmo il libro a Mosè, affinché seguissero la retta via. E facemmo un segno del figlio di Maria e di sua madre. Demmo loro rifugio su un colle tranquillo e irrigato. O messaggeri, mangiate quello che è puro e operate il bene. Sì, io conosco bene il vostro agire. In verità questa vostra comunità è una comunità unica e io sono il vostro Signore. Temetemi dunque. Ma essi si divisero in sette e ogni fazione si gloria di ciò che possiede. Lascia rimersi nella loro situazione per un certo periodo. Credono forse che tutto ciò che concediamo loro, beni e prole, sia un anticipo sulle buone cose della vita futura? Certo che no. Sono del tutto incoscienti. In verità, coloro che fremono per il timore del loro Signore, che credono nei segni del loro Signore, che nulla associano al loro Signore, che danno quello che danno con cuore colmo di timore, pensando al ritorno al loro Signore. Essi sono coloro che si affrettano al bene e sono i primi ad assolverlo. Non carichiamo nessun'anima oltre ciò che può portare. Presso di noi c'è un libro che dice la verità ed essi non subiranno alcun torto. Ma a proposito di questo Corano, i loro cuori sono distratti. Ci sono azioni verso le quali gli iniqui andranno inevitabilmente. Quando poi colpiamo col nostro castigo i più agiati tra di loro, lanciano grido d'angoscia. Non gridate oggi. Nessuno vi proteggerà da noi. Quando vi erano recitati i miei segni, volgevate le spalle. Gonfi d'orgoglio, li denigravate nelle vostre veglie. Non hanno dunque meditato le parole di Allah? Forse è giunta loro qualche cosa che mai era pervenuta ai loro antenati? Già conoscevano il messaggero. Perché poi lo hanno rinnegato? Oppure dicono, è un po' seduto dai demoni. È invece la verità quello che lui ha recato, ma la maggior parte di loro disdegna la verità. Se la verità fosse consona alle loro passioni, certamente si sarebbero corrotti i cieli e la terra e quelli che vi si trovano. No, abbiamo dato loro il monito, ma essi se ne allontanano. Oppure stai chiedendo loro un compenso. Il compenso del tuo Signore è migliore ed Egli è il migliore dei sostentatori. Certo, tu li inviti alla retta via. In vero, coloro che non credono all'altra vita, se ne allontanano. Se li facessimo oggetto della misericordia e allontanassimo la miseria che li affligge, certamente persevererebbero alla cieca nella loro ribellione. Già li colpimmo col castigo, ma non si sono arresi al loro Signore, non si sono umiliati. E non lo faranno fino quando non apriremo su di loro la porta del castigo terribile, e allora saranno disperati. Egli è colui che ha creato per voi l'udito, la vista e i cuori. Eppure, ben raramente gli siete riconoscenti. Egli è colui che vi ha distribuito sulla terra e presso di lui sarete riuniti. Egli è colui che dà la vita e dà la morte. A lui appartiene l'alternarsi del giorno e della notte. Non capite, dunque? Dicono piuttosto quello che già dissero i loro antenati. Dicono, quando saremo morti e ridotti in polvere e ossa, davvero saremo resuscitati? D. Ci viene promesso questo, come già fu promesso ai nostri avi. Non sono altro che vecchie storie. D. A chi appartiene la terra e ciò che contiene? Ditelo se lo sapete. Risponderanno, ad Allah. D. Non rifletterete dunque? D. Chi è il Signore dei sette cieli, il Signore del trono sublime? D. Risponderanno, ad Allah. D. Non lo temerete dunque? D. Chi tiene nella sua mano il regno di tutte le cose? Chi è colui che protegge e contro il quale nessuno può essere protetto? Ditelo se lo sapete. Risponderanno, Allah. D. Com'è dunque che siete stregati? D. Abbiamo dato loro la verità, ma essi sono dei bugiardi. Allah non si è preso figlio alcuno e non esiste alcun Dio al suo fianco. Che altrimenti, ogni Dio se ne sarebbe andato con ciò che ha creato e ognuno di loro avrebbe cercato di prevalere sugli altri. Gloria ad Allah, ben oltre quello che affermano. Egli è il conoscitore del visibile e dell'invisibile. Egli è ben più alto di quanto li associano. D. Mio Signore, se mai mi mostrerai quello che hai promesso loro? D. Ebbene, mio Signore, non mi annoverare tra gli ingiusti. In verità, noi possiamo mostrarti quello che abbiamo loro promesso. Respingi il male con ciò che è migliore. Ben sappiamo quel che dicono. E di. Signore, mi rifugio in te contro le seduzioni dei diavoli. E mi rifugio in te, Signore, contro la loro presenza vicino a me. Quando poi si presenta la morte a uno di loro, egli dice, Mio Signore, fatemi ritornare. Che io possa fare il bene che ho omesso. No. Non è altro che la vana parola che egli pronuncia, e dietro di loro sarà eretta una barriera fino al giorno della resurrezione. Quando poi sarà suonato il corno, in quel giorno non ci saranno, tra loro, più legami parentali, e non si porranno più domande. Coloro che avranno bilancio pesanti, avranno la beatitudine. Ma coloro che avranno bilancio leggere, saranno quelli che avranno perduto loro stessi. Rimarranno in perpetuo nell'inferno. Il fuoco brucerà i loro volti, e avranno torte le labbra. Non vi sono stati recitati i miei versetti, e non li consideraste imposture? Risponderanno, Nostro Signore, ha vinto la disgrazia, eravamo gente traviata. Signore, facci uscire di qui. Se poi persisteremo nel peccato, saremo allora davvero ingiusti. Dirà, rimanetevi, e non parlatemi più. In vero c'era una parte dei miei servi che diceva, Signore, noi crediamo, perdonaci e usaci misericordia. Tu sei il migliore dei misericordiosi. E invece li avete scherniti al punto da perdere il ricordo di me, mentre di essi ridevate. In verità oggi li ho compensati di ciò che hanno sopportato con pazienza. Essi sono coloro che hanno conseguito la beatitudine. Dirà, quanti anni siete rimasti sulla Terra? Risponderanno, siamo rimasti un giorno, o parte di un giorno. Interroga coloro che tengono il computo. Dirà, davvero, siete rimasti ben poco. Se lo aveste saputo, pensavate che vi avessimo creati per Ceglia e che non sareste stati ricondotti a noi? Si è esaltato Allah, il vero Re. Non c'è altro Dio all'infuori di Lui, il Signore del trono sublime. E chi invoca insieme ad Allah un'altra divinità senza averne prova alcuna, dovrà renderne conto il suo Signore. Certamente i miscredenti non prospereranno. E di? Signore, perdona, e usaci misericordia. Tu sei il migliore dei misericordiosi. Sura ventiquattresima Questa è una sura che abbiamo rivelato e imposto, e per mezzo della quale abbiamo fatto scendere segni inequivocabili, perché possiate comprendere. Flagellate la fornicatrice e il fornicatore, ciascuno con cento colpi di frusta, e non vi impietosite nell'applicazione della religione di Allah, se credete in Lui nell'ultimo giorno, e che un gruppo di credenti sia presente alla punizione. Il fornicatore non sposerà altri che una fornicatrice o un'associatrice, e la fornicatrice non sposerà altri che un fornicatore o un associatore, poiché ciò è interdetto ai credenti. E coloro che accusano le donne oneste, senza produrre quattro testimoni, siano fustigati con ottanta colpi di frusta, e non si è mai più accettata la loro testimonianza. Essi sono i corruttori, eccetto coloro che in seguito si saranno pentiti e demandati. In verità Allah è perdonatore misericordioso. Quanto a coloro che accusano le loro spose, senza avere altri testimoni che se stessi, la loro testimonianza sia una quadruplice attestazione, in nome di Allah, testimoniante la loro veridicità. E con la quinta attestazione, invochi la maledizione di Allah su se stesso, se è tra i mentitori. E sia risparmiata la punizione alla moglie, se è la testa quattro volte in nome di Allah, che egli è tra i mentitori. E la quinta attestazione, invocando l'ira di Allah su se stessa, se egli è tra i veritieri. Se non fosse per la grazia di Allah nei vostri confronti e per la sua misericordia, Allah è colui che accetta il pentimento, il saggio. In vero molti di voi sono stati i propalatori della calunnia. Non consideratelo un male, al contrario, è stato un bene per voi. A ciascuno di essi spetta il peccato di cui si è caricato, ma colui che se ne è assunto la parte maggiore avrà un castigo immenso. Perché, quando ne sentirono parlare, i credenti e le credenti non pensarono al bene in loro stessi e non dissero questa è una palese calunnia, perché non produssero quattro testimoni in proposito? Se non portano i quattro testimoni, allora davanti ad Allah sono essi bugiardi. E se non fosse per la grazia di Allah nei vostri confronti e la sua misericordia in questa vita e nell'altra, vi avrebbe colpito un castigo immenso per quello che avete propalato. Quando con le vostre lingue riportaste e con le vostre bocche diceste cose di cui non avevate conoscenza alcuna, pensavate che non fosse importante? mentre era enorme davanti ad Allah. Perché, quando ne sentiste parlare, non diceste perché mai dovremmo parlarne? Gloria a te, oh Signore, è una calunnia immensa. Allah vi esorta a non fare mai più una cosa del genere se siete credenti. Allah vi rende noti i suoi segni. Allah è sapiente, saggio. in verità coloro che desiderano che si diffonda lo scandalo tra i credenti avranno un doloroso castigo in questa vita e nell'altra. Allah sa e voi non sapete. se non fosse per la grazia di Allah su di voi e per la sua misericordia. In verità Allah è dolce, misericordioso. O voi che credete, non seguite le tracce di Satana. A chi segue le tracce di Satana egli comanda scandalo e disonore. Se non fosse per la grazia di Allah nei vostri confronti e la sua misericordia, nessuno di voi sarebbe mai puro. Ma Allah rende puro chi vuole lui. Allah è audiente, sapiente. Coloro di voi che godono di favore e agiatezza non giurino di non darne ai parenti, ai poveri e a coloro che migrano sul sentiero di Allah. Perdonino e passino oltre. Non desiderate che Allah vi perdoni? Allah è perdonatore, misericordioso. Coloro che calugnano le donne oneste distratte ma credenti sono maledetti in questa vita e nell'altra e toccherà loro castigo immenso nel giorno in cui le loro lingue le loro mani e i loro piedi testimonieranno contro di loro per quello che avranno fatto. In quel giorno Allah pagherà il loro vero compenso. Sapranno allora che Allah è il vero, l'evidente. le malvagie ai malvagi e i malvagi alle malvagie le buone ai buoni e i buoni alle buone e si sono indenni da quello di cui sono accusati saranno perdonati e avranno ricompensa generosa. O voi che credete non entrate in case che non siano le vostre senza aver chiesto il permesso e aver salutato la gente che le abita questo è meglio per voi ve ne ricorderete? Se non vi trovate nessuno non entrate comunque finché non ve ne sia dato il permesso e se vi si dice andatevene tornatevene indietro ciò è più puro per voi Allah ben conosce quel che fate. Non ci sarà colpa da parte vostra se entrerete in case diverse dalle abitazioni nelle quali si trovi qualcosa a voi utile. Allah conosce quello che palesate e quello che nascondete. Dì ai credenti di abbassare il loro sguardo e di essere casti ciò è più puro per loro. Allah ben conosce quello che fanno. E dì alle credenti di abbassare i loro sguardi ed essere caste e di non mostrare dei loro ornamenti se non quello che appare. Di lasciar scendere il loro velo fin sul petto e di non mostrare i loro ornamenti ad altri che i loro mariti ai loro padri ai padri dei loro mariti ai loro figli ai figli dei loro mariti ai loro fratelli ai figli dei loro fratelli ai figli delle loro sorelle alle loro donne alle schiave che possiedono ai servi maschi che non hanno desiderio ai ragazzi impuberi che non hanno interesse per le parti nascoste delle donne e non battano i piedi si da mostrare gli ornamenti che celano tornate tornate pentiti ad Allah tutti quanti o credenti affinché possiate prosperare unite in matrimonio quelli tra voi che non sono sposati e i vostri schiavi maschi e femmine che siano onesti e se sono bisognosi Allah li arricchirà della sua grazia Allah è largo nel dare e sapiente e coloro che non hanno i mezzi per sposarsi cerchino la castità finché Allah non li arricchisca con la sua grazia e i vostri schiavi che ve lo chiedono concedete l'affrancamento contrattuale se sapete che in essi c'è del bene e date loro parte dei beni che Allah ha dato a voi per brama dei beni di questa vita non costringete a prostituirsi le vostre schiave che vogliono mantenersi caste e se vi sono costrette ebbene a causa di tale costrizione Allah concederà il suo perdono e la sua misericordia già vi rivelammo in versetti chiarissimi l'esempio di coloro che vi precedettero esortazione per i timorati Allah è la luce dei cieli e della terra la sua luce è come quella di una nicchia in cui si trova una lampada la lampada è in un cristallo il cristallo è come un astro brillante il suo combustibile viene da un albero benedetto un olivo né orientale né occidentale il cui olio sembra illuminare senza neppure essere toccato dal fuoco luce su luce Allah guida verso la sua luce chi vuole lui e propone agli uomini metafore Allah è onnisciente e si trova questa luce nelle case che Allah ha permesso di innalzare in cui il suo nome viene menzionato in cui al mattino alla sera egli è glorificato da uomini che il commercio e gli affari non distraggono dal ricordo di Allah dall'esecuzione dell'orazione dall'erogazione della decima e che temono il giorno in cui i cuori e gli sguardi saranno sconvolti affinché Allah li compensi delle loro opere più belle e aggiunga loro della sua grazia Allah provvede a chi vuole senza misura quanto a coloro che sono miscredenti le loro opere sono come un miraggio in una piana desertica che l'assetato scambia per acqua e poi quando vi giunge non trova nulla anzi nei pressi trova Allah che gli salda il conto Allah è rapido al conto oppure le loro opere sono paragonabili a tenebre di un mare profondo le onde lo coprono onde al di sopra delle quali si ergono altre onde sulle quali vi sono le nuvole ammassi di tenebre le une sulle altre dove l'uomo che stende la mano quasi non può vederla per colui cui Allah non ha dato la luce non c'è alcuna luce non vedi come Allah è glorificato da tutti coloro che sono nei cieli e sulla terra e gli uccelli che dispiegano le ali ciascuno conosce come adorarlo e rendergli gloria Allah ben conosce quello che fanno appartiene da Allah la sovranità sui cieli e sulla terra verso Allah è il ritorno ultimo non vedi che Allah spinge le nuvole e poi le raduna per farne ammassi e vedi la pioggia scaturire dei loro recessi e fa scendere dal cielo montagne e gonfie di grandine colpisce con esse chi vuole e ne preserva chi vuole e per poco il lampo della folgore che le accompagna non rapisce la vista Allah alterna la notte e il giorno questa è certamente una lezione per coloro che hanno occhi per vedere dall'acqua Allah ha creato tutti gli animali alcuni di loro stricciano sul ventre altri camminano su due piedi e altri su quattro Allah crea ciò che vuole in verità Allah è onnipotente già rivelamo segni chiarissimi Allah dirige chi vuole sulla retta via dicono crediamo in Allah e nel messaggero e obbediamo poi alcuni di loro volgono le spalle costoro non sono affatto credenti quando vengono chiamati ad Allah e al suo inviato affinché gli giudichi tra di loro alcuni si sottraggono se il diritto fosse dalla loro parte allora verrebbero a lui sottomessi c'è una malattia nel loro cuori dubitano o credono forse che Allah e il suo inviato li opprimano no sono loro gli ingiusti quando i credenti sono chiamati ad Allah e al suo inviato affinché gli giudichi tra loro la loro risposta è ascoltiamo e obbediamo essi sono coloro che prospereranno coloro che obbediscono ad Allah e al suo inviato paventano Allah e lo temono essi sono coloro che avranno il successo giurano in nome di Allah con solenni dichiarazioni che se tu dessi loro l'ordine uscirebbero a combattere di non giurate la vostra obbedienza verbale è ben nota Allah ben conosce quello che fate di obbedite ad Allah e obbedite all'inviato se poi volgete le spalle sappiate che a lui incomberà il suo peso e a voi il vostro se obbedirete sarete ben guidati l'inviato non deve che trasmettere in modo esplicito il messaggio Allah ha promesso a coloro che credono e compiono il bene di farne i suoi vicari sulla terra come già fu per quelli che li precedettero di rafforzarli nella religione che gli piacque dar loro e di trasformare in sicurezza il loro timore mi adoreranno senza associarmi alcunché quanto a colui che dopo di ciò ancora sarà miscredente ecco quelli che sono iniqui eseguite l'orazione versate la decima e obbedite all'inviato sì che possiate essere oggetto della misericordia non crediate che i miscredenti possano opporsi alla potenza di Allah sulla terra il fuoco sarà il loro asilo qual tristo destino o voi che credete vi chiedono il permesso di entrare i vostri servi e quelli che ancora sono in puberi in tre momenti del giorno prima dell'orazione dell'alba quando vi spogliate dei vostri abiti a mezzogiorno e dopo l'orazione della notte questi sono tre momenti di riservatezza per voi a parte ciò non ci sarà alcun male né per voi né per loro se andrete e verrete gli uni presso gli altri così Allah vi spiega i segni e Allah è sapiente saggio e quando i vostri figli raggiungono la pubertà chiedono il permesso di entrare come fanno quelli che prima di loro la raggiunsero così Allah vi spiega i suoi segni Allah è sapiente saggio quanto alle donne meno pausa che non sperano più di sposarsi non avranno colpa alcuna se abbandoneranno i loro veli senza peraltro mettersi in mostra ma se saranno pudiche meglio sarà per loro Allah è colui che tutto ascolta e conosce non ci sarà colpa per il cieco né per lo storpio né per il malato né per voi stessi se mangerete nelle vostre case o nelle case dei vostri padri o nelle case delle vostre madri o nelle case dei vostri fratelli o nelle case delle vostre sorelle o nelle case dei vostri zii paterni o nelle case delle vostre zie paterne o nelle case dei vostri zii materni o nelle case delle vostre zie materne o in altre case di cui possediate le chiavi o presso un vostro amico è nessuna colpa se mangerete in compagnia o da soli Quando entrate nelle case, datevi il saluto, benedetto e puro, che viene da Allah. Così Allah vi spiega i suoi segni affinché comprendiate. I veri credenti sono coloro che credono in Allah nel suo inviato e che, quando sono presso di lui per una questione che li accomuna, non se ne vanno senza chiedere il permesso di congedarsi. Coloro che chiedono il permesso sono coloro che credono in Allah nel suo inviato. Se dunque ti chiedono il permesso per qualcosa che preme loro, concedilo a chi vuoi e chiedi ad Allah di perdonarli. In verità Allah è perdonatore misericordioso. Non rivolgetevi all'inviato nello stesso modo in cui vi rivolgete gli uni agli altri. Allah ben conosce coloro che si defilano di nascosto. Coloro che si oppongono al suo comando stiano in guardia, che non giunga loro una prova o non li colpisca un castigo doloroso. In verità, ad Allah appartiene tutto ciò che è nei cieli e sulla terra. Egli conosce le vostre condizioni e nel giorno in cui li ricondurrà a sé, li informerà a proposito del loro agire. Allah conosce ogni cosa. Sura venticinquesima Benedetto colui che ha fatto scendere il discrimine sul suo servo, affinché potesse essere un ammonitore per tutti i mondi. Colui cui appartiene la sovranità dei cieli e della terra, che non si è preso figlio alcuno, che non ha consoci nella sovranità, che ha creato ogni cosa e le ha dato giusta misura. E invece si sono presi all'infuori di lui divinità che, e se stesse create, nulla creano, e che non sono in grado neanche di fare il male o il bene a loro stesse, che non sono padrone né della morte, né della vita, né della risurrezione. I miscredenti dicono, tutto questo non è altro che menzogna che costui ha inventato, con l'aiuto di un altro popolo. Hanno commesso ingiustizia e falsità. E dicono, favole degli antichi che si è fatto scrivere, che gli dettano al mattino e alla sera. D. Lo ha fatto scendere colui che conosce i segreti dei cieli e della terra. In verità è perdonatore, misericordioso. E dicono, ma che inviato è costui che mangia cibo e cammina nei mercati? Perché non è stato fatto scendere un angelo che fosse a monitore assieme a lui? Perché non gli viene lanciato un tesoro dal cielo? Non ha neppure un suo giardino di cui mangiare i frutti? Dicono gli ingiusti, voi seguite un uomo stregato. Guarda in che maniera ti considerano. Si sono sviati e non potranno trovare il sentiero. Benedetto colui che, se vuole, ti concederà cose ancora migliori di queste. Giardini in cui scorrono i ruscelli e ti darà palazzi. Invece tacciano di menzogna l'ora. Per coloro che tacciano di menzogna l'ora abbiamo preparato la fiamma. E quando li vedrà da lontano potranno sentirne la furia e il crepitio. E quando, legati insieme, saranno gettati in uno spazio angusto, invocheranno l'annientamento totale. Sarà detto loro, oggi non invocate l'annientamento una sola volta, ma invocatolo molte volte. D. È forse meglio questa fiamma o il giardino perpetuo che è stato promesso ai timorati come premio e ultima destinazione. Avranno colà tutto ciò che desidereranno e perpetua dimora. Promessa che il tuo Signore manterrà. Il giorno in cui saranno riuniti, essi e coloro che adoravano all'infuori di Allah, egli dirà a questi ultimi, siete voi che avete sviato questi miei servi o hanno smarrito la via da soli? Risponderanno, gloria a te! Che vantaggio avremmo avuto a scegliere alleati e protettori all'infuori di te? Ma tu colmasti loro e i loro avi di tanta ricchezza di beni che dimenticarono il ricordo di te. E furono uomini perduti. Già hanno smentito quello che dite. Non potrete sfuggire al castigo, né avrete soccorso alcuno. A tutti gli ingiusti daremo un grande castigo. Prima di te, non inviamo alcun messaggero che non mangiasse cibo e non camminasse nei mercati, e designiamo alcuni come tentazioni per gli altri. Persevererete? Il tuo Signore tutto osserva. E coloro che non sperano di incontrarci dicono, perché non sono stati fatti scendere angeli su di noi? Perché non vediamo il nostro Signore? Hanno riempito di orgoglio le anime loro e travalicato i limiti dell'arroganza. Il giorno in cui vedranno gli angeli, in quel giorno gli ingiusti non avranno nessuna buona novella, sarà detto loro, rifugio inaccessibile. Abbiamo giudicato le loro opere e ne abbiamo fatto polvere dispersa. In quel giorno le genti del Paradiso avranno il miglior rifugio e il più bel luogo per riposare. Il giorno in cui le nuvole del cielo si apriranno e scenderanno di discesa gli angeli, in quel giorno la vera sovranità parterrà al compassionevole, e sarà un giorno difficile per i miscredenti. Il giorno in cui l'ingiusto si morderà le mani e dirà, me disgraziato, ah se avessi seguito la via con il messaggero. Guai a me, me disgraziato, se non avessi scelto il tale per amico. Sicuramente mi ha sviato dal monito dopo che mi giunse. In verità Satana è il traditore degli uomini. Il messaggero dice, Signore, il mio popolo ha in avversione questo Corano. Ad ogni profeta assegniamo un nemico scelto tra i malvagi. Ti basti il tuo Signore come guida e ausilio. I miscredenti dicono, perché il Corano non è stato fatto scendere su di lui in un'unica soluzione? Lo abbiamo invece rivelato in questo modo per rafforzare il tuo cuore e te lo facciamo recitare con cura. Non proporranno alcun interrogativo senza che noi ti forniamo la verità in proposito e la migliore spiegazione. Coloro che saranno trascinati sui loro volti verso l'inferno, quelli sono coloro che avranno la peggiore delle condizioni, i più sviati dalla retta via. Già ad Emma Mosè la Torah e gli concedemmo suo fratello Aronne come ausilio. Dicemmo, andate presso il popolo che tacciò di menzogne i segni nostri e lo colpimmo poi di distruzione totale. E il popolo di Noè, quando tacciarono di menzogne i messaggeri, li annegammo e ne facemmo un segno per gli uomini. Abbiamo preparato un castigo doloroso per gli ingiusti. Ricorda gli Had, i Samud e le genti di Ar-Ras e molte altre generazioni intermedie. A tutti loro proponemmo delle metafore e poi li sterminammo totalmente. Certamente quegli altri sono passati nei pressi della città sulla quale cadde una pioggia di sventura. Non l'han forse vista? No, perché ancora non sperano nella ressurrezione. Quando ti vedono, non fanno altro che schernirti. È costui che l'ha mandato come messaggero? C'è mancato poco che non ci sviasse dei nostri dèi se solo non fossimo rimasti perseveranti. Ma presto sapranno, quando vedranno il castigo, chi è il più sviato dalla retta via. Non ha visto quello che ha elevato a divinità le sue passioni? Vuoi forse essere un garante per lui? Credi che la maggior parte di loro ascolti e comprenda? Non sono altro che animali e ancora più sviati dalla retta via. Non hai visto come distende l'ombra il tuo Signore? E se avesse voluto l'avrebbe fatta immobile. Invece, facemmo del sole il suo riferimento. E poi la prendiamo per ricondurla noi con facilità. Egli è colui che della notte ha fatto una veste per voi, del sonno un riposo e ha fatto del giorno un risveglio. Egli è colui che invia i venti come annuncio che precede la sua misericordia e facciamo scendere dal cielo un'acqua pura per rivivificare con essa la terra morta e dissetare molti degli animali e degli uomini che abbiamo creati. L'abbiamo distribuita tra loro affinché ricordino. Ma la maggior parte degli uomini rifiutò tutto eccetto la miscredenza. Se avessimo voluto avremmo suscitato un ammonitore in ogni città. Non obbedire i miscredenti lotta con esso vigorosamente. Egli è colui che ha fatto confluire le due acque una dolce e gradevole l'altra salata e amara e ha posto tra loro una zona intermedia una barriera insormontabile. Egli è colui che dall'acqua ha creato una specie umana e la resa consanguinea e affine. Il tuo Signore è potente. Adorano all'infuori di Allah ciò che non reca loro né giovamento né danno. Il miscredente sarà sempre alleato dei nemici contro il suo Signore. Ebbene noi ti abbiamo inviato solo come enunzio al monitore di non vi chiedo ricompensa alcuna ma solo che chi lo voglia segua la via che conduce il suo Signore. Confida nel vivente che mai non muore lodalo e glorificalo e gli basta se stesso nella conoscenza dei peccati dei suoi servi. Egli è colui che in sei giorni ha creato i Cieli e la Terra e quello che vi è fra mezzo e quindi si è innalzato sul trono il Compassionevole. Chiedi a qualcuno ben informato su di Lui e quando si dice loro prosternatevi al Compassionevole dicono e cos'è mai il Compassionevole? Dovremmo prosternarci a chi tu ci comandi? E la loro ripulsa si accresce. Benedetto colui che ha posto in cielo le costellazioni un luminare e una luna che rischiara. Egli è colui che ha stabilito l'alternarsi del giorno e della notte per chi vuole meditare o essere riconoscente. Chi servi del Compassionevole sono coloro che camminano sulla Terra con umiltà e quando gli ignoranti si rivolgono loro rispondono pace. Coloro che passano la notte prosternati e ritti davanti al loro Signore. Coloro che invocano Signore allontana da noi il castigo dell'inferno che in verità questo è un castigo perpetuo qual tristo rifugio e soggiorno. Coloro che quando spendono non sono né avari né prodighi ma si tengono nel giusto mezzo. Coloro che non invocano altra divinità assieme ad Allah che non uccidono se non per giustizia un'anima che Allah ha reso sacra e non si danno alla fornicazione e chi compie tale azione avrà una punizione avrà castigo raddoppiato nel giorno della resurrezione e vi rimarrà in perpetuo coperto di ignominia a meno che non si penta creda e opri il bene che a costoro Allah cambierà le loro cattive azioni in buone Allah è perdonatore misericordioso chi si pente e opera il bene il suo pentimento è verso Allah e sono coloro che non rendono falsa testimonianza e quando passano nei pressi della futilità se ne allontanano con dignità coloro che quando vengono ammoniti con i versetti del loro signore non sono né sordi né ciechi e dicono signore dacci conforto nelle nostre spose e nei nostri figli e fai di noi una guida per i timorati di Allah per la loro costanza saranno compensati con il livello più alto del paradiso e saranno ricevuti con l'augurio di pace per rimanervi in perpetuo quale splendido rifugio e soggiorno d il mio signore non si curerà affatto di voi se non lo invocherete ma già tacciaste di menzoni alla sua rivelazione e presto ne subirete le inevitabili conseguenze Sura 26 Ta-sin-mim questi sono i versetti del libro chiarissimo forse ti affliggi perché essi non sono credenti se volessimo faremmo scendere su di loro un segno dal cielo di fronte al quale piegherebbero il capo non giunge loro alcun nuovo monito del compassionevole senza che se ne allontanino lo hanno tacciato di menzonia ben presto avranno notizie di ciò che scherniscono non hanno visto quante nobili specie abbiamo fatto germogliare sulla terra questo è davvero un segno ma la maggior parte di loro non crede sì il tuo signore è l'eccelso il misericordioso ricorda quando il tuo signore chiamò Mosè recati presso il popolo degli oppressori presso il popolo di Faraone non avranno timore di me disse signore in vero temo che mi trattino da bugiardo è oppresso il mio petto e la mia lingua legata manda a Ronne piuttosto di fronte a loro io sono in colpa temo che mi uccidano disse invece no andate entrambi con i nostri segni noi saremo con voi e ascolteremo andate da Faraone e ditegli noi siamo gli inviati del signore dei mondi affinché tu lasci partire con noi i figli di Israele rispose non ti abbiamo forse allevato presso di noi quando eri bambino non sei forse rimasto con noi molti anni della tua vita poi hai commesso l'atto di cui ti macchiasti e fosti un ingrato disse ho fatto ciò quando ancora ero uno degli smarriti sono fuggito da voi perché ho avuto paura di voi ora il mio signore mi ha dato il discernimento e ha fatto di me uno dei suoi messaggeri mi vuoi forse rinfacciare questo favore mentre schiavizzi i figli di Israele disse Faraone e chi è questo signore dei mondi rispose il signore dei cedi della terra e di ciò che vi è tra essi se solo poteste esserne convinti disse Faraone a quelli che lo attorniavano non avete sentito disse Mosè è il vostro signore il signore dei vostri antenati più lontani disse Faraone davvero il messaggero che vi è stato inviato è un folle disse Mosè è il signore dell'oriente e dell'occidente e di ciò che vi è fra mezzo se solo lo capiste disse se prenderai un dio dall'infuori di me certamente farò di te un prigioniero rispose Mosè anche se ti portassi una prova evidente disse portala dunque se sei fra i veritieri gettò il suo bastone ed ecco che divenne palesemente un serpente trasse la sua mano ed essa apparve bianca a coloro che guardavano disse Faraone ai notabili che lo attorniavano è davvero un mago sapiente vuole cacciarvi dalla vostra terra con la sua magia ebbene che cosa deliberate dissero rimanda a lui e suo fratello e invia messi nelle città affinché ti conducono ogni grande mago sapiente si riunirono i maghi per l'incontro nel giorno stabilito e si disse al popolo vi riunirete in massa così da poter seguire i maghi se saranno vincitori poi quando i maghi furono convenuti dissero a Faraone davvero avremo una ricompensa se saremo vincitori rispose sì e in tal caso sarete tra i favoriti Mosè disse loro gettate quello che avete da gettare gettarono le loro corde e i loro bastoni e dissero per la maestà di Faraone saremo noi i vincitori gettò Mosè il suo bastone ed esso inghiottì i loro artifici allora i maghi si gettarono in prosternazione dicendo crediamo nel Signore dei mondi il Signore di Mosè e di Aronne disse Faraone crederete in lui prima che io ve lo permetta in verità è lui il vostro gran maestro colui che vi ha insegnato la magia presto imparerete a vostre spese vi farò tagliare mani e piedi alternati e vi farò crocifiggere tutti quanti risposero non sarà un male al nostro Signore faremo ritorno bramiamo che il nostro Signore perdoni i nostri peccati per essere stati i primi a credere e rivelammo a Mosè fa partire i miei servi nottetempo certamente sarete inseguiti Faraone mandò messi in tutte le città perché dicessero in vero sono un gruppo esiguo e ci hanno irritato mentre noi siamo ben vigili facemmo sì che abbandonassero giardini e fonti tesori e graziose dimore così fu e tutto demmo in eredità ai figli di Israele a levarsi del sole li inseguirono quando le due schiere si avvistarono i compagni di Mosè dissero saremo raggiunti disse Mosè già mai il mio Signore è con me e mi guiderà rivelammo a Mosè colpisci il mare con il tuo bastone subito si aprì e ogni parte dell'acqua fu come una montagna enorme facemmo avvicinare gli altri e salvammo Mosè e tutti coloro che erano con lui mentre annegammo gli altri in verità inciovia un segno ma la maggior parte di loro non crede in verità il tuo Signore era eccelso il misericordioso e recita loro la storia di Abramo quando disse a suo padre e al suo popolo cosa adorate risposero adoriamo gli idoli e resteremo fedeli a loro disse Abramo vi ascoltano quando li invocate vi giovano o vi recano danno risposero no ma trovammo i nostri avi che facevano così disse avete ben riflettuto su ciò che avete adorato sia a voi che i vostri lontani antenati essi sono tutti i miei nemici eccetto il Signore dei mondi colui che mi ha creato e mi guida colui che mi nutre e mi dà da bere colui che quando sono malato mi guarisce colui che mi farà morire e mi ridarà la vita ed è da lui che bramo il perdono delle mie colpe nel giorno del giudizio Signore dammi discernimento e annoverami tra i giusti concedimi la stima sincera dei posteri fa che sia uno degli eredi del giardino delle delizie e perdona mio padre davvero è stato uno degli sviati e non coprirmi di abominio nel giorno in cui gli uomini saranno resuscitati il giorno in cui non gioveranno né ricchezze né progenie eccetto per colui che verrà ad Allah con cuore puro il giardino sarà alla portata dei timorati e la fornace apparirà per i traviati e verrà detto loro dove sono coloro che adoravate all'infuori di Allah vi sono d'aiuto o sono d'aiuto a loro stessi vi saranno gettati loro e i traviati e tutte le schiere di iblis diranno disputando tra loro per Allah certamente eravamo in errore evidente quando vi considerammo uguali al signore dei mondi coloro che ci hanno sviato non sono altro che iniqui per noi non ci sono intercessori e neppure un amico cordiale se solo ci fosse possibile un ritorno saremmo allora tra i credenti questo è davvero un segno ma la maggior parte di loro non crede in verità il tuo signore è l'eccelso il misericordioso il popolo di Noè tacciò di menzogna gli inviati ricorda quando il loro fratello Noè disse loro non sarete dunque timorati in vero sono per voi un messaggero degno di fede temete Allah e obbeditemi non vi chiedo ricompensa alcuna che la mia ricompensa è presso il signore dei mondi temete Allah e obbeditemi risposero dovremmo credere in te nonostante che siano i più miserabili di noi a seguirti disse Noè io non conosco il loro operato il giudizio su di loro spetta il mio signore se solo ne foste consapevoli non sarò certo io a respingere i credenti io non sono altro che un nunzo esplicito dissero o Noè se non smetti sarai certamente lapidato disse o signor mio la mia gente mi tratta da bugiardo apri una via tra me e loro e salva me e credenti che sono con me salvammo lui e quelli che erano insieme con lui sull'arca stracolma gli altri li annegammo ecco certamente un segno tuttavia la maggior parte di loro non crede in verità il tuo signore è l'eccelso il misericordioso gli ad smentirono gli inviati ricorda quando il loro fratello disse loro non sarete dunque timorati in vero sono per voi un messaggero degno di fede temete all'ah e obbeditemi non vi chiedo ricompensa alcuna che la mia ricompensa è presso il signore dei mondi eleverete un edificio su ogni collina solo per futilità e costruirete fortezze come se doveste vivervi in perpetuo e quando colpirete lo farete come tiranni temete all'ah e obbeditemi e temete colui che vi ha provvisto di ciò che ben sapete vi ha provvisto di bestiame di progenie di giardini e fonti in vero temo per voi il castigo di un giorno terribile dissero che tu ci ammonisca o non lo faccia per noi è la stessa cosa questi nostri costumi non sono che quelli degli antichi pertanto non saremo certo puniti lo trattarono da bugiardo e noi li facemmo perire questo è certo un segno ma la maggior parte di loro non crede in verità il tuo signore è l'eccelso il misericordioso i samud accusarono di menzogne agli inviati quando il loro fratello saleh disse loro non sarete dunque timorati in vero sono per voi un messaggero degno di fede temete alla e obbeditemi non vi chiedo ricompensa alcuna che la mia ricompensa è presso il signore dei mondi siete certi di poter essere sempre qui al sicuro tra giardini e fonti tra messi e palmetti dalle spate stracariche a scavare con maestria a case e nelle montagne temete alla e obbeditemi non obbedite ai comandi degli empi che spargono la corruzione sulla terra senza mai emendarsi dissero tu non sei altro che uno stregato sei un uomo come noi dacci un segno se sei veridico disse questa è una cammella berrà e voi berrete nei giorni stabiliti non fatele alcun male o vi colpirà il castigo di un giorno tremendo le tagliarono i garretti ma ebbero a pentirsene li colpì il castigo ecco certo un segno ma la maggior parte di loro non crede in verità il tuo signore è l'eccelso il misericordioso il popolo di lot accusò di menzogna gli inviati quando il loro fratello lot disse loro non sarete dunque timorati di allah in vero sono per voi un messaggero degno di fede temete allah e obbeditemi non vi chiedo ricompensa alcuna che la mia ricompensa è presso il signore dei mondi tra tutte le creature bramerete i maschi lasciando da parte le spose che il vostro signore ha creato per voi ma voi siete un popolo di trasgressori dissero se non la smetti certamente sarai scacciato disse io aborrisco il vostro comportamento signore preserva me e la mia famiglia dalle loro azioni noi lo salvammo insieme con tutta la sua famiglia a parte una vecchia che restò indietro quindi annientammo tutti gli altri facemmo scendere su di loro una pioggia una pioggia orribile su coloro che erano stati in vano avvertiti questo è certo un segno ma la maggior parte di loro non crede in verità il tuo signore è l'eccelso il misericordioso il popolo di alaica accusò di menzogna gli inviati quando schwaib disse loro non sarete dunque timorati di allah in vero sono per voi un messaggero degno di fede temete allah e obbeditemi non vi chiedo ricompensa alcuna che la mia ricompensa è presso il signore dei mondi colmate la misura e non siate fraudolenti e pesate con giusta bilancia non date agli uomini meno di quel che spetta loro e non corrompete la terra portandovi disordine temete colui che ha creato voi e le generazioni antiche dissero davvero tu sei uno stregato e non sei che un uomo come noi davvero pensiamo che tu sia un bugiardo fai cadere su di noi dei pezzi di cielo se sei veridico disse il mio signore ben conosce quello che fate lo trattarono da bugiardo li colpi allora il castigo del giorno dell'ombra in verità fu il castigo di un giorno terribile questo è certo un segno ma la maggior parte di loro non crede in verità il tuo signore è l'eccelso il misericordioso in verità esso è davvero ciò che il signore dei mondi ha rivelato è sceso con esso lo spirito fedele sul cuore tuo affinché tu fossi un ammonitore in lingua araba esplicita e già era nelle scritture degli antichi non è un segno per loro che lo riconoscano i sapienti dei figli di israele se lo avessimo rivelato a un non arabo e questi lo avesse recitato loro non vi avrebbero creduto in tal modo lo facemmo entrare nel cuore dei miscredenti ma non crederanno in esso prima di aver visto il castigo doloroso che giungerà loro all'improvviso senza che se ne accorgano diranno allora ci sarà concesso un rinvio è il nostro castigo che vogliono affrettare non vedi che se concedessimo loro di godere per anni e quindi giungesse loro ciò di cui furono minacciati non gioverebbe loro quel che hanno goduto nessuna città distruggemmo senza che avesse avuto a monitori che l'avvertissero che noi non siamo ingiusti non sono i diavoli che l'hanno fatto scendere che esso non si addice loro e neppure avrebbero potuto produrlo poiché in vero sono esclusi dall'ascolto non invocare assieme ad Allah un'altra divinità che saresti tra i dannati danne l'annuncio ai tuoi parenti più stretti e si benevolo con i credenti che ti seguono se poi ti disobbediscono allora di in verità sconfesso quello che fate e confida nell'eccelso nel misericordioso che ti vede quando ti alzi per l'orazione e vede i tuoi movimenti tra coloro che si prosternano in verità egli è colui che tutto ascolta e conosce volete che vi indichi quelli sui quali scendono i diavoli scendono su ogni mentitore e peccaminoso tendono l'orecchio ma la maggior parte di loro sono bugiardi e quanto i poeti sono i traviati che li seguono non vedi come errano in ogni valle e dicono cose che non fanno eccetto coloro che credono compiono il bene e spesso ricordano Allah e che si difendono quando sono vittime di un'ingiustizia gli ingiusti vedranno ben presto il destino verso il quale si avviano